Mi chiamo Mauro Carrafiello in arte della 180 che è un progetto che nasce dalla mia esperienza di writing. Ho iniziato a dipingere come molti della mia generazione quando avevo 16 anni, poi questa passione si è evoluta lungo vie anche illegali per poi approdare a un discorso pittorico che ho cercato comunque di mantenere vicino a quella che è l'essenza originale del writing. Nelle mie opere è possibile vedere all'interno di altri elementi illustrativi e pittorici quelli che sono i concetti fondamentali, portanti del writing, il throw up e la tag. Nell'opera che ho realizzato per il writing Street Art ho voluto esaminare il rapporto tra la natura, l'uomo e la sua matrice biologica rispetto a quello che è la sua unione, la sua naturalità. Le opere invece che sono esposte all'interno della carreria sono una sintesi di quello che è il lavoro che usualmente realizzano in strada. E' stato molto bene lavorare ad Ischia, eravamo comunque a due passi dal mare e l'accoglienza che c'è stata rivolta da parte delle persone che hanno organizzato l'evento è stata veramente meravigliosa. Spero di ritornarci perché quest'isola merita veramente che si visitate. Ciao! 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 Grazie a tutti.